Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati, che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. Potrete ordinare al costo di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Basta fare l'upload dei file Gerber sul sito, specificare i dettagli costruttivi e le quantità e attendere. Ciao a tutti e benvenuti in laboratorio. Durante le riparazioni ci capita spesso di imbatterci in stadi che utilizzano i transistor bipolari. Il video di questa sera ha lo scopo di richiamare i 10 concetti principali, secondo me, e quindi stilare una sorta di decalogo del transistor BJT per fissare bene i concetti. Questo video è rivolto sia ai neofiti ma anche agli esperti per un ripasso e ha lo scopo appunto di andare direttamente al punto di capire bene i concetti e i limiti operativi di questi transistor per poi capire bene le configurazioni circuitali. Adesso vi leggerò le 10 parole che ho intenzione di trattare nelle sezioni che seguiranno utilizzando il meccanismo di YouTube per cui potete andare direttamente alla parte che vi interessa. Infatti nella timeline vedete che ci sono i vari capitoli. Le 10 parole sono dispositivo attivo, guadagno, zona di funzionamento, piccoli segnali, emettitore comune, transconduttanza, equazione di Ebers e Mol, dipendenza dalla temperatura, effetto early, effetto Miller. Spero che il video sia di vostro interesse e magari in una seconda parte potremmo trattare le varie configurazioni circuitali in cui questi transistor sono utilizzati come emitter follower, darlington, zisclai, cascode, specchi di corrente e tutte le configurazioni che sono più utilizzate in ambito di amplificazione. Per cui buona visione! Cominciamo dalla prima parola. Dispositivo attivo significa che è realizzato tramite dei materiali semiconduttori ed è un dispositivo che è in grado di amplificare. Cioè se lo vedo come una scatola, ho una potenza in ingresso, ho una sorgente di alimentazione, il dispositivo sarà in grado di generare una potenza in uscita superiore alla potenza di ingresso, sfruttando appunto l'alimentazione. Il transistor risulta essere un po' più complicato rispetto a un normale componente a due terminali, come potrebbe essere una resistenza, un induttore, un condensatore. Infatti i componenti a due terminali hanno fra di loro una relazione tra tensione e corrente che è lineare e soprattutto è diretta. Qua, avendo tre terminali, le relazioni tra le correnti e le tensioni sono più di una e ne avremo in pratica due grandezze indipendenti per la tensione e due grandezze indipendenti per la corrente. Dico due e non tre perché avremo comunque sempre un terminale di riferimento, quindi sarà scelto uno dei terminali del nostro transistor a riferimento che verrà posizionato a massa e le grandezze di corrente e tensione saranno riferite a questo. Qui ho rappresentato i due simboli utilizzati per la configurazione NPN, dove questa sigla richiama la disposizione delle giunzioni del semiconduttore e di fatto vedete che è come avere, dal punto di vista dei terminali, se ci mettiamo qua con un ometro, è come avere dei di diodi disposti in questa maniera. In pratica nell'NPN dalla base verso l'emettitore ho un diodo orientato in questa maniera, dalla base al collettore ho un diodo in questa maniera. La configurazione PNP è esattamente duale, quindi dal terminale di base i diodi saranno rivolti verso la base con il loro catodo. Quindi definiti i tre terminali, le grandezze che andiamo ad esaminare sono le tensioni fra i vari terminali, quindi VBE ad esempio è la tensione che esiste fra l'emettitore e la base, poi abbiamo VCE e VCB. Per le correnti definiamo le tre correnti IB, corrente di base, IC corrente di collettore, IE corrente di emettitore. La seconda parola è guadagno. Il transistor BJT infatti è un amplificatore di corrente, quindi se disegniamo le correnti IB come corrente che entra nella sua base, IC come corrente che entra nel collettore e IE come corrente che esce dall'emettitore, sappiamo che se il transistor lavora nella zona attiva, e la vedremo dopo, sussiste una relazione per cui la corrente di collettore è uguale a HFE per la corrente di base. Questo parametro HFE è un parametro H che viene chiamato guadagno, lo trovate spesso indicato anche come β, quindi è un coefficiente che indica il guadagno del transistor, cioè la costante che lega la corrente di base rispetto alla corrente di collettore. Quindi in zona attiva esiste una dipendenza lineare tra queste due variabili. Ecco che quindi una piccola corrente di base che entra nel dispositivo viene trasformata tramite il guadagno β in una corrente di collettore che poi esce dall'emettitore. In pratica queste due correnti diventano quasi uguali perché sono molto più grandi di questa qui e quindi questa la possiamo trascurare e sebbene IE sia uguale a IC più IB, siccome IB è piccola potremmo dire che IE è grosso modo uguale a IC. Dobbiamo però stare attenti perché questo guadagno non è un numero che vale in tutte le condizioni di funzionamento, ma questo stesso guadagno dipende a sua volta dalla corrente di collettore. Infatti esistono dei grafici che fanno vedere che il guadagno varia con la corrente di collettore, quindi potremmo avere dei guadagni variabili a seconda del valore della corrente e questo già ci suggerisce che non è una buona idea prendere il guadagno del transistor come un parametro di progetto, nel senso che questo può variare. Tipicamente i guadagni per i transistor di segnale piccolo o medio si aggirano a valori che vanno dai 50 ai 200, poi esistono transistor con guadagni molto più elevati, ma comunque è un valore da prendere in un intervallo e non bisogna rilegare il progetto a questo valore perché abbiamo detto essere molto variabile. Quindi quando la corrente di base entra nel dispositivo questa giunzione nel caso di un NPN e quindi è un'aggiunzione PN viene a trovarsi polarizzata indiretta e quindi la caduta ai suoi capi è quella tipica di un diodo, cioè una tensione diretta di un diodo di circa 0,6 volt. Anche questo valore dipende molto dalla tecnologia e dal tipo di transistor. L'aggiunzione invece tra base e collettore, PN, si trova a essere polarizzata in inversa. Infatti la corrente di collettore scorre in questa maniera verso l'emettitore. La terza parola chiave è zone di funzionamento. Per il transistor bipolare se ne identificano tre. Una zona di interdizione in cui il transistor è spento, una zona attiva in cui vale il legame che abbiamo visto per cui la corrente di collettore è proporzionale alla corrente di base secondo il parametro guadagno, beta, e una zona di saturazione. Ho scelto questa curva che è una secondo me delle più caratteristiche che trovate anche nei vari datasheet dei componenti, che mostra l'andamento della corrente di collettore in funzione della tensione fra collettore ed emettitore al variare della corrente di base. Quindi abbiamo un fascio di curve che ci mostra come il transistor si comporta legando le grandezze principali di nostro interesse. Partendo dalla zona di interdizione significa che il transistor è spento, cioè non è attiva la conduzione nella sua zona base emettitore. Quindi la giunzione base emettitore non è andata in conduzione, così come avverrebbe per un diodo. Quindi non ci sono le condizioni necessarie per condurre. Appena ci sono queste condizioni, fornendo una corrente di base, si viene a localizzare una corrente di collettore che, se dipende in maniera proporzionale dalla corrente di base, fa sì che il nostro transistor sia in regione attiva. E più aumento la corrente di base, più la corrente di collettore segue secondo il parametro guadagno. Vi ricordate poi che il guadagno non è fisso per ogni valore della corrente di collettore. Però si vengono a creare delle rette parallele con una pendenza che è data dall'effetto early, che vedremo in una delle parole chiavi seguenti. Esistono delle condizioni per cui non posso più stare in zona attiva. Se cioè la mia tensione fra collettore e emettitore, per questioni che dipendono dal circuito esterno, scende troppo, si arriverà a questo ginocchio che fa sì che il transistor lavora in saturazione, ossia con un legame che non è più vero tra corrente di collettore e corrente di base. Ovvero la corrente di collettore sarà inferiore rispetto al prodotto di guadagno per corrente di base. Quindi ci andiamo a localizzare in questa zona di funzionamento. Questa zona di saturazione è molto utile quando si vuole utilizzare il nostro transistor come interruttore, quindi acceso spento. Viceversa la zona attiva la useremo quando dobbiamo utilizzare il nostro BJT come amplificatore, perché noi vogliamo una linearità, cioè vogliamo far sì che la corrente di collettore sia legata alla corrente di base in maniera più o meno costante. Facciamo un esempio pratico di quando un transistor esce dalla zona lineare ed è utilizzato in saturazione come interruttore. Abbiamo una lampadina che alimentata a 10 volt assorbe 100 miliampere che alimentiamo con una tensione di 10 volt in continua e poi tramite un transistor andiamo a inserire una resistenza da 1 kilo ohm in base, un interruttore. Quindi facendo i conti, quando viene data la 10 volt e si chiude l'interruttore una corrente scorre lungo questo ramo e la possiamo calcolare. Infatti abbiamo detto che quando il transistor è attivo fa cadere 0,6 volt ai suoi capi, quindi andando a fare 10 volt che è la tensione di alimentazione meno 0,6 che è questa caduta, abbiamo la caduta di tensione sulla resistenza che per la legge di ohm diviso la resistenza otteniamo la corrente di base che in questo caso risulta essere di 9.4 miliampere. Se il transistor ha un guadagno 100 e fosse in zona attiva avremmo che la corrente di collettore che attraversa la lampadina dovrebbe essere la corrente di base di 9.4 miliampere per il guadagno 100, quindi 940 miliampere. Ma questo non è possibile perché sappiamo che questo carico quando ha ai suoi capi una tensione di 10 volt assorbe 100 miliampere. Ecco che quindi il transistor non può fornire questa corrente che sarebbe tipica della regione attiva, di conseguenza entra in saturazione, ossia la sua tensione fra collettore ed emettitore si va a ridurre al minimo possibile. Quindi in questo circuito avremo che la tensione fra collettore e emettitore sarà uguale a quella chiamata VCE SAT che tipicamente è 0,2 volt per un transistor di piccolo segnale e quindi il circuito farà in modo che la lampadina si accende con una tensione di poco meno di 10 volt, 9.8, una corrente più o meno di 100 miliampere e questo transistor è acceso ma in saturazione e quindi non è più vero che la corrente di collettore è uguale al guadagno per la corrente di base. Questo modo di utilizzo come interruttore può essere molto comodo in circuiti in cui io con una piccola corrente di accensione vado a gestire la corrente elevata di un carico. Il caso tipico è quando si vuole pilotare ad esempio un led sulla 3 3 volt da un microprocessore e non si vuole utilizzare la corrente in uscita dal micro. Allora si prende il pin dal microprocessore, colleghiamo una resistenza di base ad esempio da 10 kg, un transistor PNP e una resistenza in serie a led. A questo punto la corrente che scorre nel led, questa qui, la corrente di collettore quindi del transistor sarà uguale alla 3 3 volt che è la tensione d'alimentazione meno la caduta sul diodo meno la caduta del transistor che è in saturazione quindi 0.2 volt diviso la resistenza in serie 330 ohm otteniamo una corrente per il led di circa 5 miliampere questa corrente di 5 miliampere quindi è fornita dall'alimentazione. Il micro invece fornirà solo una corrente di 3 3 volt che è il livello alto in uscita dal pin meno 0.6 che è la caduta in diretta sull'aggiunzione base emettitore diviso la resistenza di base 10 kg e quindi solo 270 micro ampere quindi il microprocessore con una minima corrente riuscirà ad accendere il led a spese dell'alimentazione a 3 3 volt. Anticipiamo subito che il transistor in saturazione è in una condizione di dissipazione di potenza inferiore a quella che si avrebbe in zona attiva infatti la potenza che dissipa il transistor è la tensione vce per la corrente di collettore trascuriamo la corrente di base perché è piccola ora siccome la vce è piccolina anche la potenza dissipata sarà piccola vedremo in seguito che invece un transistor in zona attiva consumerà molta più potenza perché la tensione fra collettore emettitore sarà molto più elevata e quindi il prodotto corrente di collettore per tensione collettore emettitore sarà più elevato la quarta parola che ho scelto è piccoli segnali perché è una metodologia un approccio che si utilizza per studiare i transistor significa andare a studiare il transistor alle variazioni del segnale quindi si trascurano le polarizzazioni in continua e quindi i punti che hanno delle componenti in continua e si vanno a guardare solo le variazioni quindi la domanda che ci si pone è se applico una piccola variazione all'ingresso cosa succede all'uscita e vado a calcolarmi le equazioni utilizzando questi piccoli segnali facciamo un esempio con una delle configurazioni più utilizzate che detta a collettore comune si chiama così perché il collettore vedete che è collegato all'alimentazione positiva l'ingresso è collegato alla base l'uscita è collegata all'emettitore quindi nel trasferimento da ingresso a uscita il collettore non prende parte è collegato all'alimentazione ecco perché lo chiamiamo collettore comune nella fattispecie questo circuito si chiama anche emitter follower cioè inseguitore di emettitore infatti la tensione di uscita vedete che è collegata alla tensione di ingresso tramite l'aggiunzione be del transistor ma abbiamo detto che questa una volta che il transistor è acceso è fissa e costante alla vbe un parametro tipico del transistor per cui si può dire che la tensione dell'emitter che poi coincide con la tensione di uscita di questo stadio è uguale alla tensione vb che coincide con l'ingresso meno 06 meno la caduta quindi questo circuito non fa altro che replicare un'uscita pari all'ingresso con una caduta di 06 sembrerebbe abbastanza inutile come circuito se non che ha il grande vantaggio di aumentare l'impedenza di ingresso vista da questa porta adesso andiamo a spiegare cosa significa in pratica significa che la sorgente vede il carico come un carico molto meno pesante cioè che assorbe molta meno corrente infatti questa impedenza d'ingresso sarà più elevata rispetto all'impedenza reale del carico e adesso lo andremo a vedere con la teoria dei piccoli segnali quindi andremo a fare i calcoli di quanto viene aumentata l'impedenza del carico grazie alla configurazione emitter follower per far sì che questa z in appunto sia un'alta impedenza scriviamo la prima relazione ai piccoli segnali diciamo che la variazione a l'emitter v e scritto con v piccolo è uguale alla variazione sulla base cioè abbiamo trascurato il valore continuo di caduta significa che se io do una piccola sollecitazione qui in base avrò una sollecitazione identica qua sull'emettitore i piccoli segnali fanno impiego di queste lettere minuscole a volte le trovate anche con delta v o delta vb quindi la prima relazione quando andiamo ad applicare una perturbazione sulla base la troveremo paro paro sull'uscita sempre ai piccoli segnali valutiamo ora qual è la variazione della corrente di emettitore la chiamiamo i piccola e questa non sarà altro che la variazione sull'emettitore che abbiamo appena visto diviso il valore della resistenza per la legge di ohm infatti la corrente che attraversa questa resistenza non è altro che la differenza di tensione ai suoi capi diviso il valore di resistenza quindi ie uguale a ve diviso r possiamo anche dire che la variazione di corrente nell'emettitore è uguale alla variazione di corrente nella base più la variazione di corrente nel collettore ma siccome supponiamo di essere in zona attiva la corrente di collettore in variazione è uguale a beta per la corrente di base come abbiamo visto prima quindi la corrente di emettitore alle variazioni è uguale a 1 più beta per la corrente di base sempre alle variazioni da questa deriva quindi che la corrente di base è uguale a 1 diviso beta più 1 per la corrente di emettitore che è uguale a sua volta visto che la corrente di emettitore alle variazioni è uguale a ve diviso r sostituendo qui dentro abbiamo che la variazione di corrente di base è proporzionale alla variazione della tensione di base diviso la resistenza che abbiamo messo sull'emettitore per il guadagno beta più 1 ai piccoli segnali l'impedenza di ingresso vista da questa porta è la variazione della tensione di base quindi vb diviso ib cioè la corrente che la attraversa andando a scrivere z in uguale vb diviso ib e utilizzando le espressioni che abbiamo visto si ottiene che l'impedenza di ingresso è uguale a beta più 1 r dove r è la resistenza sull'emettitore che potrebbe essere il nostro carico o comunque una resistenza in parallelo al carico ecco che vedete da qua che l'impedenza di ingresso vista dalla sorgente è stata aumentata di un fattore beta più 1 di r quindi il carico originario r è stato appesantito di questo fattore abbiamo detto che beta tipicamente può essere un centinaio significa che il nostro generatore di sorgente vede grazie al transistor un carico che si è alleggerito di 100 volte facendo i calcoli possiamo calcolare anche quanto vale l'impedenza di uscita cioè che impedenza si vede guardando da questa parte otterremo che l'impedenza di uscita è uguale all'impedenza della sorgente quindi quella a monte del nostro transistor diviso beta più 1 quindi l'impedenza di uscita di fatto si è abbassata sempre del fattore beta più 1 ecco che vedete che un singolo transistor quindi è in grado di trasformare le impedenze per carico e sorgente cosa utilissima negli amplificatori passiamo alla quinta parola amplificatore dimettitore comune questa è una configurazione di base che ci permetterà di applicare la teoria dei piccoli segnali vista prima e a capire come un segnale d'ingresso venga amplificato in tensione da questo circuito realizzato in questa maniera immaginiamo quindi di avere un segnale audio ad esempio quindi alternato applicato al piedino v in tramite questo condensatore andiamo a rimuovere eventuali componenti continue presente sul segnale infatti noi siamo interessati alle sole componenti alternate in ambito audio portiamo questo segnale su questo nodo e vedete che abbiamo delle resistenze che servono per polarizzare questo circuito il valore del condensatore viene scelto in modo che il filtro passa alto cr che si viene a creare qua sulla porta di ingresso sia tale da far passare tutte le frequenze di nostro interesse si tratta di scegliere un condensatore di valore abbastanza grande qua ho riportato la formula che ci ricorda che questo condensatore deve essere maggiore di 1 su 2 pi greco fr dove r è il parallelo delle resistenze r1 ed r2 perché ai piccoli segnali cioè per le variazioni le due resistenze r1 e r2 sono in parallelo infatti il terminale positivo quindi il 20 volt di alimentazione e il ground ai piccoli segnali è come se fossero in cortocircuito perché sono delle costanti noi siamo interessati solo alle variazioni quindi andremo a selezionare r1 e r2 tali per cui insieme a c i segnali possano transitare senza essere attenuati troppo per far lavorare il nostro amplificatore in modo che tutta la dinamica del segnale di ingresso sia trasferita in uscita e garantire che il nostro transistor rimanga in regione attiva si va a fare il cosiddetto bias cioè si va a stabilire una corrente di riposo che attraversa il transistor tale da portarlo in zona attiva in tutti i casi sia nel caso che il segnale qua vada al suo massimo di escursione previsto e quindi questo nodo arrivi vicino al vcc ma non lo superi sia nel caso negativo cioè quando la semionda diventa negativa dobbiamo essere sicuri che l'uscita non venga come si dice clippata in pratica la corrente di riposo che andiamo a settare su questo ramo deve essere tale da rispettare questi vincoli che il segnale di uscito sia sempre contenuto tra 0 e 20 volt senza tosature ragioniamo in questa maniera facciamo in modo che in assenza di segnale il punto di uscita sia esattamente a metà tra 0 e 20 volt quindi vout deve valere 10 volt quando non abbiamo segnale in ingresso per avere questa condizione visto che c'è una resistenza del valore di 10k per avere 10 volt qua la corrente che deve scorrere su questa resistenza deve essere di un milliampere infatti un milliampere per 10k ci dà 10 volt e quindi avremo 20 meno 10 volt avremo che vout si trova a 10 volt quando la corrente di riposo è pari a un milliampere quindi quando vout 0 vale 10 volt la corrente i e 0 e ic 0 questa corrente qui deve valere un milliampere questa resistenza vale un k e quindi per avere un milliampere questo nodo per la legge di ohm si deve trovare a un volt infatti un volt diviso un k ci dà nuovamente un milliampere questo nodo vale un volt il transistor è acceso quindi ai suoi capi abbiamo visto che da 0.6 quindi questo nodo si deve trovare a 1.6 il potenziale di questo nodo in continua è dato dal valore delle resistenze di questo partitore di tensione quindi andiamo a scegliere i valori di r1 r2 tali per cui con 20 volt di alimentazione abbiamo 1.6 volt su questo nodo dobbiamo fare in modo che il nostro transistor non sia troppo influenzato dalla corrente di questo partitore detto in altri termini il parallelo di queste due resistenze r1 r2 che sono quelle che polarizzano questo nodo deve avere una resistenza equivalente molto inferiore alla resistenza che si vede dalla base di questo transistor dal punto precedente abbiamo visto che la resistenza che si vede da questo punto è uguale grosso modo alla resistenza re per il guadagno del transistor assumendo circa 100 per il guadagno abbiamo che questa resistenza da un kilo viene vista come 100 kg da questa parte ecco che quindi se scegliamo due valori come 10k e 110k il loro parallelo sarà sicuramente più piccolo di 100k visto che uno degli elementi del parallelo è proprio 10k la tensione vb che vogliamo che sia 1.6 volt appunto per impostare la corrente di bias la calcoliamo come questo partitore resistivo e diciamo che è uguale a r2 diviso la somma delle due per i 20 volt che sono a capo del partitore facendo i conti viene proprio 1.6 volt quindi andando a selezionare queste resistenze queste quattro resistenze abbiamo settato la corrente di polarizzazione e abbiamo fatto sì che il transistor non sia troppo influenzato dalla polarizzazione diciamo anche che il bias e quindi la polarizzazione di questo transistor può essere fatta in tantissimi altri modi qua vi ho fatto vedere il più semplice tramite partitore resistivo ora siamo interessati a capire quanto guadagna questo stadio ad emettitore comune ossia quanto vale il rapporto tra la tensione di uscita v out rispetto all'ingresso v in ragioniamo come sempre ai piccoli segnali diremo che la variazione sull'emettitore quindi questa tensione v piccolo e è uguale alla variazione su questa base infatti trascuriamo come sempre il valore costante ai piccoli segnali quindi v e uguale vb poi diremo che la corrente sull'emettitore è uguale alla variazione sull'emettitore v e diviso la resistenza sull'emettitore r e quindi i e uguale a v e diviso r e siccome v e uguale a vb i e è uguale a vb diviso r e cioè la variazione di corrente sull'emettitore uguale alla variazione di base diviso questa resistenza ora andiamo a considerare il nodo vc la variazione al collettore quindi la vc è uguale a meno ic per rc meno perché abbiamo visto che è una variazione della corrente di collettore quindi se la corrente di collettore aumenta la tensione di collettore diminuisce infatti dobbiamo ragionare alle variazioni osservando lo schema infatti vediamo che se la corrente di collettore aumenta aumenta anche la caduta sulla resistenza rc e il potenziale di collettore diminuisce quindi la variazione è giusto che sia meno ic per vc siccome la variazione di corrente al collettore è uguale alla variazione di corrente sull'emettitore perché la corrente di base è trascurabile possiamo sostituire ic con meno vb scusate ic con vb su re ecco che quindi la variazione al collettore è uguale a meno la variazione sulla base per questo rapporto di resistenze resistenza rc sul collettore resistenza re sull'emettitore il guadagno è definito come la tensione di uscita diviso la tensione di ingresso vout diviso v in quindi nel nostro caso vc diviso vb quindi andando a sostituire il guadagno di questo amplificatore di emettitore comune vale meno infatti è invertente il rapporto fra la resistenza rc di collettore e la resistenza di emettitore re da questa equazione sembrerebbe quindi che se io metto una resistenza re pari a zero cioè vado a mettere l'emettitore collegato con la massa potrei avere un guadagno infinito vedremo che questo non è possibile quando andiamo ad affrontare la parola chiave equazione di ebers e mol una piccola nota questo è un emettitore comune con resistenza di emettitore in degenerazione infatti l'emettitore comune normalmente ha l'emettitore direttamente a massa veniamo ora la sesta parola trans conduttanza e possiamo dire che questo amplificatore effettivamente un amplificatore a trans conduttanza infatti possiamo ragionare su questo su questa parte del circuito escludendo per ora la resistenza rc e diciamo che la corrente che scorre qua sull'emettitore è una corrente costante che dipende dalla tensione che io vado a mettere qui difatti se vi ricordate l'analisi ai piccoli segnali questa tensione ve è variazione di tensione all'emettitore è uguale alla variazione di tensione sulla base quindi se io vario la base vario tramite questa caduta che è fissa di 0 6 anche l'emettitore e di fatto vado a variare la corrente su questa resistenza da un kilo ohm visto in questa maniera il mio amplificatore posso dire che ha un guadagno di trans conduttanza pari a gm infatti ha le dimensioni di una variazione di corrente di uscita rispetto a una variazione di tensione in ingresso sulla base e posso definirla come la variazione della corrente di emettitore rispetto alla tensione di base andando a vedere quanto vale la resistenza re cioè un kilo ohm possiamo dire che questo guadagno vale meno un miliampere su volt cioè ogni volt di variazione sul nodo di base mi porta a una variazione di un miliampere sulla corrente di uscita secondo quest'ottica gm vale proprio uno su re è un kilo ohm per cui avremo le dimensioni appunto di un milli siemens essendo il siemens l'inverso dell'ohm ora che abbiamo la nostra corrente convertita ci serve un amplificatore che converta questa corrente in una tensione e qual è è questa resistenza qui infatti la resistenza rc che è attraversata dalla corrente su questo stadio andrà a impostare una tensione su vout quindi possiamo vedere questo amplificatore composto da due parti la prima parte come un amplificatore a transconduttanza quindi che genera una corrente pilotato da una tensione e una seconda parte a prodotto che da questa corrente tira fuori una tensione se andiamo a scrivere in termini matematici vediamo che la rm cioè la resistenza che permette il la trasformazione da corrente a tensione è proprio uguale a rc ai piccoli segnali ossia per una variazione di un milliampere sulla corrente provoca 10 volt di oscillazione su questo nodo e quindi vale proprio 10 kilo ohm secondo questa ottica quindi il nostro amplificatore ha un guadagno gv che è dato dal prodotto della trans conduttanza del guadagno di trans conduttanza gm che abbiamo calcolato prima per rc andando a sostituire si ritrova ovviamente meno rc su re come abbiamo visto all'inizio la sesta parola chiave è l'equazione di ebers e mol che stabilisce il legame fra la corrente di collettore la corrente di saturazione che a sua volta dipende dalla temperatura e soprattutto dalla tensione fra base e emettitore come vedete ci abbiamo una dipendenza esponenziale ma la cosa molto importante di questa equazione è che settando un preciso valore di tensione fra base emettitore sia un ben preciso valore di corrente di collettore quindi in realtà quello che polarizza veramente il transistor è la tensione fra base e emettitore ma questa è molto difficile da controllare perché ha una grandissima variazione con la temperatura infatti qua poi a dividere abbiamo la tensione termica che ho riportato come vt kt per q costante di bolsmann temperatura assoluta carica dell'elettrone lasciando perdere un attimo queste costanti il risultato che vogliamo ricordarci è che appunto la corrente di collettore dipende in maniera molto precisa dalla tensione base emettitore poi la corrente di base dipende dalla corrente di collettore secondo il guadagno quindi il ragionamento logico è questo tensione base emettitore corrente di collettore corrente di base questa forma esponenziale con qualche coefficiente correttivo vale anche per la caratteristica del diodo che esprime la corrente in diretta del diodo rispetto alla tensione applicata ai suoi capi da questa equazione abbiamo un'importante conseguenza per un aumento della corrente di collettore di 10 volte l'incremento sulla tensione base emettitore è di soli 58.2 millivolt effettuando poi la derivata di vbe rispetto alla corrente ic otteniamo la resistenza di emettitore secondo le equazioni di ebers moll quindi questa resistenza ai piccoli segnali re vale la tensione termica diviso la corrente di collettore e la tensione termica sappiamo essere circa 25 millivolt a 20 gradi quindi possiamo calcolare quanto vale la resistenza ai piccoli segnali dell'emettitore per tutti i transistor e da qui vediamo quindi che ogni transistor ha una resistenza di emettitore che è definita proprio dal suo modello tecnologico e questo ci spiega anche se vi ricordate il guadagno dell'amplificatore emettitore comune era meno rc su re grande e avevamo detto se re grande resistenza di emettitore va a zero il guadagno va all'infinito e no per l'equazione di ebers moll il guadagno ha comunque una componente sulla resistenza ai piccoli segnali di emettitore pari a questo re ottava parola chiave è una diretta conseguenza dell'equazione di ebers moll fondamentale per il transistor la sua fortissima dipendenza dalla temperatura in pratica la tensione vb e quindi fra base emettitore del transistor dipende dalla temperatura con un coefficiente che è negativo ed è meno 2.1 millivolt per grado centigrado significa che ogni aumento di un grado di temperatura produce sulla vbe una variazione di meno 2.1 millivolt per stare acceso con una corrente di collettore costante in pratica stiamo dicendo che a parità di corrente di collettore con l'aumento della temperatura sarà sempre sufficiente meno tensione vbe per garantire quella corrente visto in altri termini si può anche dire che se fisso una certa vbe con l'aumento della temperatura aumenterà la corrente di collettore e questo può essere un guaio facendo i calcoli infatti si arriva alla conclusione che la corrente di collettore per una vbe costante cresce con la temperatura con un tasso che è del 9 per cento per ogni grado centigrado significa che se io vado ad aumentare la temperatura di soli 8 gradi o addirittura un raddoppio della corrente di collettore e da qui capiamo l'importanza della stabilità termica dei transistor ovvero la temperatura ha un grandissimo ruolo nella loro polarizzazione nei vari circuiti ecco perché abbiamo così tanti circuiti che cercano di compensare queste derive termiche infatti questo ragionamento portato all'estremo potrebbe distruggere un transistor perché più un transistor porta corrente più aumenta la sua temperatura la quale a sua volta aumenta la corrente questo fenomeno chiamato thermal runaway è un fenomeno distruttivo che potrebbe far arrivare a una condizione di distruzione del transistor sebbene io abbia usato un dissipatore molto grande quindi questo lo vedremo magari in qualche configurazione di amplificatore la stabilità termica del punto di lavoro del transistor è una cosa da curare con molta attenzione esistono molti modi per fare questa compensazione uno dei classici che vedete sempre è in una configurazione a push pull ad esempio l'inserimento di una piccola resistenza in serie all'emettitore che nel caso che la corrente di collettore aumenti aumenta la sua caduta e in un qualche modo compensa questo effetto termico la nona parola è effetto early che sta a indicare una dipendenza dalla tensione vbe fra base ed emettitore rispetto alla tensione di collettore emettitore cioè non è costante abbiamo questo parametro eta che normalmente vale circa 10 alla meno 4 10 alla meno 5 a seconda del tipo di transistor e ci dice che aumentando la vce la vbe aumenta in senso opposto quindi con un meno secondo questo coefficiente se consideriamo ad esempio un coefficiente eta di 10 alla meno 4 con una variazione di 10 volt fra collettore ed emettitore avremo una variazione di vbe di un millivolt e come abbiamo visto dall'equazione di eber semol questa variazione di un millivolt si riflette poi in un cambio di corrente al collettore l'effetto early viene spesso rappresentato anche con questa espressione dove la corrente di collettore è uguale a un valore nominale ic0 più una componente che appunto è data da l'effetto early tenuto in conto da questa tensione va chiamata tensione di early se l'andiamo a rappresentare sul grafico vediamo che la corrente ic varia con la tensione vce in maniera che la pendenza vedete non è nulla ma aumenta con un valore che è ic su va in altri termini la pendenza di questa retta è data da delta ic0 scusate il valore di riferimento diviso va tensione di early ecco che quindi nel progetto di un amplificatore anche questo effetto deve essere tenuto in considerazione ed esistono diverse reti e circuiti per limitarne gli effetti e compensarlo veniamo infine all'ultima parola chiave effetto miller questo effetto tiene in conto le inevitabili capacità parassite che sono presenti all'interno del transistor in pratica ci interessano la ccb quindi la capacità fra collettore e base in particolare e la cbe queste capacità vanno a limitare le caratteristiche dinamiche del nostro transistor infatti immaginate di volerlo fare commutare a frequenze elevate quindi quindi sappiamo che la presenza di queste capacità limita le sue caratteristiche e normalmente nei data sheet trovate il parametro ft la transition frequency che è la frequenza a cui il guadagno del nostro transistor crolla al valore unitario cioè in pratica il beta non è più un guadagno come il beta in continua ma è arrivato a 1 la capacità ccb in particolare è posta tra uscita e ingresso del nostro transistor e quindi se ragioniamo ai piccoli segnali una piccola variazione all'ingresso produce una variazione all'uscita proporzionale al guadagno ecco che quindi questa capacità viene vista dal nostro transistor come una capacità equivalente disegnata in questa maniera con valore ccb che è il valore originale moltiplicato il guadagno per 1 infatti questa praticamente è una capacità in retroazione questo è come dire che la nostra sorgente vede una corrente che attraversa ccb che è pari a un valore a gv quindi il guadagno più 1 volte la ccb originale facendo qualche esempio numerico è come dire che se la mia ccb vale qualche picofarad ad esempio 5 picofarad l'effetto che se ne ha in dinamica è quello di avere una moltiplicazione per il guadagno quindi se il guadagno fosse addirittura 100 o 200 potrei avere 500 picofarad o addirittura un nanofarad di una capacità apposta tra la base e la terra e questo sarebbe un bel filtro passa basso per la mia porta in pratica le caratteristiche dinamiche di questo transistor non sono più come quelle attese da data sheet ma vengono limitate dalla capacità di miller ovviamente esistono tanti modi per compensarla e magari li vedremo in un prossimo video bene i miei complimenti per chi è arrivato fino al punto numero 10 perché mi rendo conto che è stata una trattazione forse un po pesante e teorica però il concetto che volevo passare erano le cose da tenere in considerazione su questo transistor bjt ogni tanto fra i vari esperimenti facciamo anche qualche tutorial teorico come sempre se il video vi è piaciuto o vi è stato utile un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima grazie a tutti Grazie per la visione!